In questo tutorial Pixlr Snippets, impareremo come utilizzare lo strumento Liquify Ristore all'interno di PixelRix. Lo strumento di ripristino si trova sotto l'icona fluidifica nel pannello degli strumenti. Quando selezionato, ti vengono presentati tre cursori. Il dispositivo di scorrimento delle dimensioni aumenta o diminuisce il pennello con cui applicherai l'effetto. Il dispositivo di scorrimento della forza influisce su quanto lontano verranno spinti i pixel quando muovi il cursore. Il dispositivo di scorrimento della densità influisce su quanti pixel verranno spostati quando si preme il cursore. Per utilizzare lo strumento di ripristino, devi prima applicare alcune modifiche. In questo esempio, utilizzeremo lo strumento di ingrandimento per aumentare le dimensioni del gelato. Successivamente utilizzeremo lo strumento di ripristino per riparare il centro. Ora seleziona lo strumento di ripristino. Regola i cursori in base alle tue esigenze e inizia ad applicare lo strumento di ripristino per correggere il centro dell'immagine. Ora che sai come utilizzare lo strumento di ripristino, divertiti a creare con PixelRix.